Gentili telespettatori, buona giornata. Per qualcuno il Green Pass dovrebbe finire tra qualche giorno. Cosa succede quindi all'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro a partire dal primo di aprile? Intanto scade lo stato di emergenza il 31 di marzo. Pare che non ci sarà più l'obbligo di mostrare il Green Pass per lavorare se si hanno meno di 50 anni. Pertanto nessun Green Pass significa anche nessun tampone da fare, da pagare, da mostrare, validità 24, 48 ore eccetera eccetera. Questa restrizione dovrebbe essere abrogata, cancellata, eliminata. Mentre per chi ha più di 50 anni dovranno continuare a mostrare il Green Pass rafforzato almeno fino al 15 di giugno, quando cadrà l'obbligo vaccinale. Viene tenuta in vigore questa restrizione ovviamente per cercare di fare pressione su chi non sia ancora vaccinato per vaccinarsi. Naturalmente qualcuno si vaccinerà, sicuramente ci sarà una parte dei non vaccinati che si vaccinerà perché finisce i soldi, vede che non riesce comunque ad arrivare fino a giugno senza stipendio e quindi si va a vaccinare. E' proprio questo il senso del Green Pass rafforzato per chi ha più di 50 anni, è proprio quello di indurli a vaccinarsi. Ed è per questo che rimarrà ancora in vigore, salvo dei ripensamenti dell'ultimo minuto, ma rimane proprio in vigore perché è una sorta di strumento coercitivo, diciamo. Il Ministero del Lavoro ha poi fornito dei chiarimenti sul Green Pass e partecipazioni alle attività vincolate al reddito di cittadinanza. Attraverso la legge numero 234-2021, come riporta il giornale, ha precisato che deve essere prevista necessariamente attività in presenza sia nei patti per il lavoro che nei patti per l'inclusione sociale. E fino al primo aprile il certificato verde è obbligatorio anche in queste occasioni. Il non averlo non rappresenta un motivo giustificato di assenza agli incontri. Pertanto fino al 31 di marzo ancora chi ha il reddito di cittadinanza per percepirlo deve partecipare a queste riunioni, ammesso che ci siano, e deve continuare a presentare il Green Pass rafforzato. Ma lì poi si entra tutto in un altro capitolo. Il fantastico mondo del reddito di cittadinanza è un'altra realtà, un'altra dimensione parallela. Per quanto riguarda la partecipazione ai PUC, i PUC sono progetti utili alla collettività, presso le pubbliche amministrazioni, anche in questo caso è necessario mostrare il Green Pass, sempre tenendo conto delle differenze in base all'età. Chi beneficia del reddito e non ha ancora compiuto 50 anni, rientra tra quelli che devono mostrare il Green Pass base. Se i beneficiari hanno già compiuto 50 anni, invece dovranno esibire il Super Green Pass fino al 15 di giugno. Certo che fa ridere un po' il Super Green Pass, vabbè io ho il Green Pass base, poi io ho il Green Pass VIP, il Super Green Pass, il Green Pass oro, platino. Vabbè un giorno ci dimenticheremo di tutte queste sciocchezze. Intanto vi parlo di una notizia appena arrivata, il prezzo del gas ad Amsterdam sale oggi al nuovo massimo storico, 300 euro al Mevagavat ora, con un rialzo del 54%, alla faccia. Pertanto oggi un totale di 109,6 milioni di metri cubi è stato consegnato in Europa, dice il portavoce di Gazprom dell'agenzia stampa Interfax. Domenica la cifra è stata di 109,5 milioni di metri cubi, ha aggiunto che la quantità di gas consegnata era in linea con le consegne dei consumatori europei. E poi vi racconto, Pregliasco dice, non ci sarà un nuovo picco, ma dovete essere meno rilassati. Sta dicendo voi italiani, belli rilassati, belli riposati, rendetevi conto, dice Pregliasco, voi che non parlate più di Covid, e spegnete i riflettori alle Virostar, attenzione, siete troppo rilassati, troppo giusti, come dicevano i paninari. Fase di transizione difficile, stiamo andando bene, ma abbiamo ancora un milione di positivi. Il rialzo dei contagi Covid non deve allarmare, può essere che un po' di rilassatezza abbia favorito la diffusione. Italiani troppo rilassati, troppo giusti, ma del resto abbiamo ancora, dice, un milione di positivi. E' chiaro che condizioni di diffusibilità ci sono, dice il virologo Fabrizio Pregliasco all'agenzia di stampa ADN Cronos Salute, lui che è docente della statale di Milano, commentando il più 14,5% di positivi registrato in una settimana. E poi aggiunge che vediamo l'effetto complessivo sul medio periodo, non credo che avremmo un picco, c'è una progressione di miglioramento, ma non così repentina. Il numero dei decessi scende, questo è l'elemento più bello, avremo magari qualche contagio in più, ma non casi gravi. La vaccinazione, soprattutto a quella con tre dosi, si sta dimostrando molto efficace. Ma l'invito del medico è comunque a continuare a fare attenzione. Aggiunge, è chiaro che quando non se ne parla più c'è questa percezione di liberi tutti. E' una fase difficile perché oggettivamente stiamo andando bene. E' tutto questo grazie alla ragionevolezza dei cittadini, anche alle disposizioni progressive e all'approccio di precauzioni decisi dalle istituzioni italiane. Quindi ora, dice Pregliasco, non è facile. In una fase di transizione non lasciarsi stregare da liberi tutti, ma anche guardando alle scelte di altre nazioni come l'Inghilterra che hanno adottato approcci diversi. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un video nuovo, se vi interessa. Grazie nuovamente. A presto, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete con video di politica, notizie, fai da te. E poi c'è anche la pagina di Facebook dove questi video di YouTube vengono condivisi dopo qualche ora in modo che se vi sono interessati li possiate condividere anche voi. Arrivederci.